Noi ci stiamo con quello che sono le nostre conoscenze, le nostre capacità e anche il gruppo che abbiamo a disposizione di lavorare per cercare di porre rimedio a qualche piccola lacuna, perché noi questo gruppo lo riteniamo un gruppo importante, c'è come ogni gruppo da migliorato, noi lavoriamo per migliorarlo, quindi stiamo qua per farlo ad una condizione che è quello che andiamo a spendere sia figlio del buonsenso, sia figlio che abbia veramente il piacere di farlo convinti di prendere qualcosa che serve a questa squadra, a volte può servire questa squadra come abbiamo sempre fatto come strategia.